non è che sia proprio una mano bella potente però la teniamo ah ok il computer, c'è il computer, terre importanti non ci sono però per nemmeno uno addizionale fino a finire il turno per ogni creatura modificata no no no, vabbè che è difensore quindi sticchiazzi, proprio sticchiazzi ok ci si usa una creatura con volare, ma per adesso quel difensore lì può anche stare lì bello dov'è caro, arcaiva però senti un po', to via sto doppio attacco sperando che rimanga lì tutto gratuito, è gratuito dappertutto dappertutto non è modificata questa di creatura, cazzo eh gli vorrei far fuori l'incantesimo ma non posso no, solo pc, mac e mobile, eh sarebbe bello se ci fosse su playstation o su xbox, anche se sarebbe proprio scomodo da giocare però quanto mi diverta qua, ah ma hanno 0-1 diventa ma allora è troppo giusto non c'è problema allora poi se mi venisse un'altra terra io sarei anche contento, non butto via io la possibilità che ci sia un'altra terra sinceramente proprio brev, brev, a cossia mi piace, a cossia no, prego ma guarda, peppa pig magari in futuro just for fun si potrebbe anche fare perché comunque c'è c'è sul game pass peppa pig bravo pepo, ne faccia una dietro l'altra che così almeno dopo proviamo a fare la partita c'è proviamo a fare la partita, dopo facciamo una partita dopo ti do anzi dopo lo scrivi te semmai il tuo nome che così almeno ti aggiungo per giocare come ti sta sembrando pepo il gioco ci dica, ci dica ah ma è un istantaneo ma me lo può anche dire subito che è un istantaneo questo uovo di kami, arriveder malocchio, antimalocchio gli da gli da antimalocchio? bene bene pepo godo tantissimo proprio so proprio da come ha fatto questo a saltare su? no, mo ditemelo chazzati egida egida 2 4 eh me ne serve ancora una sai egida 2 ogni espansione che esce pepo devi sapere che ha una o due abilità esclusiva per quell'espansione che ovviamente anche con carte magari di passate espansioni vanno bene in combo tipo l'abilità di questa espansione kamigawa è quella ninjutsu eh però mi devi attaccare te però eh e mi deve venire in mano una cazzo di terra come ti ha ucciso il gatto? ah ok ho capito il gatto egida 2 ok oddio quale carta? la tartaruga? volevo una terra io mortazzi sui eh la kamigawa come ho già detto kamigawa 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 fu l'ultima espansione che giocai in formato cartazio ah l'abilità ok ok vai distruggimela bravo bambino beccate sto cazzo del doppio attacco e ti pago pure questo se dovesse venirmi una cazzo di terra in mano sarei anche un bambino felice sarei cioè potrei essere anche un bambino felice potrei eh cioè non che però ma va bene anche questa non butto via neanche questa e mo che fa Gesù? che fa? che fanno i kami? io di kamigawa quella di 15 anni fa ah non ho un mazzo bianco che fa Gesù? è tosta qua eh ah bastardo che ha scaricato la carta pezzo di schifo mi deve venire in mano una carta una terra per forza se non mi viene una terra dopo ho perso perfetto ho perso adesso scusate scusate eh scusate eh che devo fare? che devo fare? ho perso basta si prende questa sconfitta va bene va bene oh oh non dico nulla grazie a tutti